Venerdì della nona settimana del tempo ordinario, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva, come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo. Disse il Signore a mio Signore, sieda alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi, Maria e Picoco Tutti sanno che il Messia che deve venire verrà dalla stirpe di Davide. Basta essere dei frequentatori della scrittura, così come lo sono gli scribi, per saperlo. Gesù fa notare che lo stesso Davide nell'Incipit del Salmo 110 che Gesù cita, chiama il Messia mio Signore. Egli, quindi, non sarà semplicemente un discendente come gli altri, sarà molto di più. Gesù vuole portare i Suoi interlocutori a intuire che Egli non parla solo come uomo ma come Dio, e agisce in quanto Dio. Ma è sempre così difficile capire che Gesù è contemporaneamente Dio e contemporaneamente uomo, e lo è totalmente in ognuna di queste accezioni. Ovviamente, ci troviamo davanti a un mistero che possiamo solo intuire e credere attraverso gli occhi della fede, e non semplicemente con i pochi strumenti dei nostri ragionamenti. Il rischio, però, che corriamo, è quello di parzializzare la nostra visione di Gesù. Se lo consideriamo solo come Dio, dimenticando la Sua umanità, allora i Suoi miracoli, le Sue parole, la Sua passione, la Sua morte e la Sua resurrezione, non sono cose che ci meravigliano. Dire che Dio significa immaginarcelo un po' come un supereroe, che proprio in quanto tale fa cose che ai comuni portali non è dato fare. In fondo, però, pensare Dio solo nella Sua onipotenza rischia di alimentare in noi solo un immaginario distorto. Infatti, Egli non vuole che si sappia che Dio, o perlomeno non vuole che lo si sappia subito perché i nostri occhi possano essere attenti a scorgere lo scandalo salutare della Sua umanità. Il figlio dell'Onipotente si fa bambino, entra nella storia come ogni uomo, soffre e gioisce come tutti gli altri, muore in croce e muore veramente, e solo dopo il Padre lo fa risorgere. Ognuno di noi così può ritrovare in Lui la propria umanità per intero, e allo stesso tempo avvertire la vita nuova che ci ha donato. Gesù non è un Dio travestito da uomo, ma è un Dio fattosi pienamente uomo. Così, anche noi, se siamo fino in fondo umani, potremo essere pronti ad accogliere il dono di diventare divini, come Lui.